Sono in lento ma costante miglioramento le condizioni dei due coniugi messinesi in luna di miele che mentre dormivano sono rimasti intossicati dai gas di evaporazione provenienti dalla fogna, saliti fin dentro la loro camera d'albergo. Come riferisce infatti il bollettino diramato dall'ospedale Cannizzaro di Catania, la donna è stata già trattata in camere perbarica nell'unità operativa di anestesia e rianimazione per l'avvelenamento da monossido di carbonio. La signora è vigile e cosciente, le sue condizioni di saluta sono in fase di miglioramento e nel corso della giornata i medici valuteranno se sottoporla un secondo trattamento perbarico. La probabile dinamica della vicenda è stata ricostruita dalle forze dell'ordine che erano state allertate dallo stesso titolare dell'albergo, preoccupato dal fatto che i coniugi, 65 anni lui e 60 lei sposati in seconde nozze, non avevano più lasciato la loro camera né rispondevano al telefono. Quando è stata fatta eruzione nella stanza i due giacevano sul letto svenuti mentre l'ambiente era invaso da un forte cattivo odore. I gas provenivano dall'esterno, sembra da un condotto fognario comunale, a causa di una fuoriuscita provocata da un guasto verificatosi nell'ambito di lavori di scavo e strada per la sistemazione dell'impianto. Le cause non sarebbero quindi in alcun modo riconducibili al sistema di areazione della struttura ricettiva. È stata aperta un'inchiesta dalla procura eblea per lesioni gravissime colpose a carico di ignoti. Al momento non ci sarebbero nomi scritti nel registro degli indagati del fascicolo. Sempre su disposizione della procura, l'albergo è stato posto sotto sequestro mentre gli otto ospiti della struttura sono stati trasferiti in un altro hotel in via precauzionale. Recentemente nella stessa camera il titolare dell'hotel era stato colto da malore dopo aver fatto una doccia, probabilmente secondo gli inquirenti per l'esalazione dei gas dell'impianto fognario, esattamente come è accaduto per i due coniugi messinesi. Grazie a tutti.